ancora qui assieme ancora qui assieme resta connesso chiediti forte Vamo solo lo 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 genio Shui a break time su justi chios 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 e Fiamo Buongiorno, buongiorno e benvenuti in questo nuovo video, in questo nuovo vlog. Ho voluto fortemente riportare i vlog sul canale, come avevo anticipato, proprio perché sicuramente riesco a trasmettervi quella che è la mia routine quotidiana nel migliore dei modi. Quindi alternerò sicuramente i contenuti un pochino più qualitativi, un pochino più lavorati con i vari ospiti nell'ambito fitness e bodybuilding e alternerò appunto con questi vlog dove vi racconterò un pochino le mie giornate. In questo modo spero di farvi passare tips utili che magari sorgono all'interno della mia giornata e soprattutto di farvi compagnia. Ok, prima parte della giornata, avete visto, mi sveglio, dopo essermi preparato faccio subito colazione, dopo aver litigato anche un po' col gatto. Primissima colazione composta da 90 grammi di albume, 2 uova intere, 10 grammi di mandorle, 20 grammi di crema di riso e 20 grammi di farina di riso aromatizzata al cioccolato. Poi come avete visto io per renderla un pochino più buona ho tipo una dispensa di salse zero ed è veramente l'unica fonte dolce che durante le giornate un po' mi concedo. Cioccolato 70% a parte, ma quello... Dopo aver fatto colazione non perdo tempo, scendo subito qui in questo parco a cercare di raccogliere quanti più passi possibili della giornata. Contate che io devo arrivare non ad una quota improponibile, quindi devo arrivare solo a 10.000 passi per evitare ogni tipo di stress. Piuttosto mi sveglio un po' prima la mattina e vengo in questo parco sotto casa a fare verosimilmente... Finisco la mia oretta di passi adesso che sono a quota 5.000 passi, 6.000 passi. Signori, ci vediamo dopo. Piccolo spunto utile sul contapassi. Alcune volte mi si chiede ma Lollo tu i passi li conti e se sì come li conti? Allora, io i passi li conto dovendone fare appunto 10.000 al giorno e questo contapassi mi consente di avere un'idea di quanti passi faccio al giorno. Ovviamente è necessario tenerlo in tasca. Vi dirò, è già il terzo identico Omron che compro e mi trovo veramente bene. Non solo perché è molto preciso con la mia falcata, ma anche perché mi riesce a dare una stima dei chilometri e delle calorie consumate abbastanza reale. Ovviamente sono tutte indicazioni che vanno prese con le pinze a spanne, però è solo per avere un'idea. Si chiede spesso contare i passi sì o contare i passi no. Io sono dell'idea che c'è una linea di demarcazione abbastanza sottile che definisce se una persona è mediamente attivo, mediamente sedentaria. E questa è la soglia dei 8.000 passi al giorno. 8.000 passi al giorno che non sono un obiettivo irraggiungibile per la maggior parte delle persone, per chi però è magari impiegato, sta molto seduto al computer, alla schivania, questo può essere un problema. Io stesso mi accorgo che se non facessi questa camminata di un'oretta la mattina, arrivare a sera mi ha sesso sulla quota di 5.000 passi al massimo. Quindi capite bene che effettivamente dipende tanto dalla routine soggettiva. Detto ciò, io al di là di una mera questione ipertrofica ed estetica, il fatto di arrivare ad una quota superiore o almeno di 8.000 passi permette sicuramente un migliore stato di salute generale. Ma non scordiamoci che il muscolo più importante da allenare dovrebbe sempre comunque essere il cuore e che se proprio vogliamo essere ciechi e guardare solo l'ipertrofia, anche un allenamento cardiovascolare andrà ad influenzare positivamente tutti i processi anabolici. Quindi se mi chiedete passi sì o passi no, assolutamente sì, sono dell'idea che un certo numero di passi andrebbe fatto minimo al giorno e se mi chiedete se ha senso contarli senza veramente ossessionarsi. L'ossessione porta a non creare sostenibilità, anzi ad interrompere un percorso prima del dovuto, quindi basterebbe unicamente uno strumento che vi consente di capire a spanne su che range di passi vi è assestata a fine giornata e da lì puoi andarli ovviamente a modulare. Ok appena rientrato a casa, dopo aver fatto i passi avete visto mi sono assestato circa 6.000-6.500 passi. Integrazione, poca ma funzionale, vitamina D3, 2.000 unità e un multivitaminico, in più cappettino e pre-workout. Crema di riso, farina di riso, proteine in polvere e olio di cocco. Ok, adesso direzione palestra, spalle bicipiti oggi, c'è una bella giornata, oggi sono abbastanza carico. Prima avete intravisto Claris, se ce la faccio con gli orari parteciperò come anticipato prima al suo corso di mobilità, anche se, anche se. Non so se ci sto dentro con gli orari dell'allenamento, quindi vedremo. Ciao Simo! Eccoci qui, allora, spalle bicipiti oggi, vi farò vedere le scene principali dell'allenamento. Quindi abbiamo il primo esercizio di spinta che è un lento avanti senza schienale, dopodiché passerò alle varie alzate laterali, toccherò i deltoidi posteriori e per finire bicipiti. Quindi, vamos! Sempre in fedele compagnia del mio intra-workout, i componenti sono le stesse. Un grammo di sale, 50 grammi di ciclodestrina, 5 grammi di cretina, 10 grammi di amminoacidi essenziali e un bolero. Ma non capisco perché quando riprendo i video sia sempre al gusto carota arancia, che tra l'altro non è uno dei miei preferiti. È destino. È l'ultima settimana di programmazione, sono veramente cotto, sono dichiaratamente in stallo, ho già parlato col coach, che cambieremo la scheda a brevissimo. Doveva infatti essere protratta per sei settimane, in realtà questa è l'ottava e adesso sono veramente all out. Lento avanti, senza schienale, con schema MAP3 ti dà uno schiaffo neurale che ti fa iniziare per forza bene l'allenamento, anche senza qualunque pre-workout. Sono lavori in buffer, è vero, ma accumulano tanto, tanto, tanto lavoro e impattano tanto a livello sistemico. Quindi appena finito un lavoro per aumentare l'intensità di carico, quindi a buffer con lo schema MAP5 più 3, quindi praticamente vado a fare 5 ripetizioni intervallate da 2 minuti di recupero aumentando un 5% ogni serie. Dopodiché mi fermo al peso con cui non riesco a chiudere 5 ripetizioni ed eseguo un 3x3 con quel peso, quindi sicuramente a livello sistemico molto impattante. Ora andiamo a lavorare un pochino più di fino a livello di isolamento muscolare aumentando l'intensità percepita. Grazie a tutti. Claris ciao eh Benvenuta in questo vlog Come va? Ciao Ha avuto Si può dire adesso? No Ha avuto No lo vedremo in un prossimo vlog In un prossimo vlog È stanca È stanca È stanca Si allena signora? No Lei fa il corso dopo vero? Si Corso di mobilità e stretching Sì 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 Devo presenziare? Sì Tu sei vecchio Sono vecchio No scatza per super atleti Ci sarà da ridere No È una foto E finiamo l'allenamento con addominali E un po' di posing Due Alla terza Rimani in contrazione in alto Tre Rimani Patti fuori Patti fuori Allontanali Tenili più lontano possibile Buono Tieni 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 Buona 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 Sensation Te lo dico fra un po' Bene Bene Ho le spalle distrutte E È buona Come un out Ci sta Sì Come ultimo esercizio ci sta Ok Allenamento finito Io sono solito Ogni fino allenamento Guardare un minimo la condizione Quando ovviamente il tempo me lo permette E oggi Essendo weekend La andiamo a controllare Ok C'è che la condizione è fatto Qualche addominale Tre a quattro serie pesanti di addominali E volo a fare il corso della Clarice Eh Io ho capito Cioè Ma c'è tanto che sono venuto Questo devo fare E sto cercando di seguire Maestra Clarice Come sono andato Segato No E non mi sei piaciuto Perché sei arrivato Quaranta minuti dopo di iniziare le lezioni Con le onde Ma cosa sei inquadrato Che secondo me Io sono inquadrata da qua in giù Tutti hanno visto che io Ho lavorato Ho lavorato diligentemente Quella che non ha lavorato È lei No io ho lavorato Per favore Te mi stuzzicavi Per farmi fare le figure di M Testimone Carsten Quindi raga Perdonate un po' le riprese Ma se non è possibile Allenamento concluso Corso concluso E adesso Andremo a fare Un pranzettino All'ultimo organizzato in famiglia Andrò dai miei a mangiare Insieme alla Clarice Io avevo già Tutto pronto Quindi semplicemente Prenderò il mio risetto La mia carne Penso che quello che conti Alla fine Sia appunto Il non rinunciare A tutte queste occasioni Di socialità Soprattutto se si parla Di occasioni in famiglia Sei sotto i riflettori Baby Immaginazione E' un poverissimo Come un poverissimo Comunque so riprendere bene Ecco te le faccio vedere Piano E dov'è? Ma si è un po' da trompone C'è la mastro cipolla Eccolo Yugi Strano che ci stia Più di due secondi In braccio Ok Tornate a casa Mentre la Clarice Si fa la doccia sul divano in questo momento, ci sta facendo una doccia. Dove devi farti la doccia? Dopo me la faccio io. Preparo i pasti per domani, mi cercherò di essere abbastanza rapido. Quindi ripilogando colazione e spuntino fatti. Mentre per oggi invece, come avevo detto, avevo già tutte le fonti pronte. 120 grammi di vitello, 165 grammi di riso, che adesso metterò insieme e mi porterò questa bella schicciettina dai miei. Le devo dargli un aggettivo... bello. Ma si mangia? Torni il dono ai funghi? Che schifo! Ma che schifo! Il vivo fai i compiti. Mi senti i compiti? Riprende quello che fanno andando da... Dai, fai vedere, fai vedere. Fai vedere cosa stai facendo. Una sbadilata di pomodorini. Si chiederanno, ma non ti viene gola. Ti viene? Sì, mi viene gola. Ma fa te. Però avevo già tutto pronto, poi i tortelloni... Certo. Ma poi non te li davo, il problema è quello. In che senso? Basta! No, i tortelloni a livello di tradizione emiliana non mi fa impazzire. Tu puoi confermare che io non mangio tanto a livello di tradizione. Non mi fanno impazzire di default. Poi con i funghi io sono mezzo intolerante. No. Quelli mi fanno più gola. Ah, fa te. Io ho 120 grammi di vitello e 160 di riso. Che tristezza. Scusa, questi sono i funghi raccolti da me. È vero, è una fungaiola. Ah, comunque sicuramente per me è normale, ma mi chiederanno perché non metti la roba nel piatto, perché non ciò sbatti. Ma sei andato contro un pattume con la veste. Vabbè, c'è stato. Se vedi questo vlog è colpa tua. Non ho collegato. Cosa c'hai addosso? È già il mio primo giorno da cameriera. Primo giorno di cameriera per la Clary. Regolino? Ciao, Regolino. Ciao, bello. Ciao. Vamos. Crack list. Crack list. Si inizia con una nuova lista. Crack list. Crack? Crack list. Lo stavo parlando perché fa me la tana è la lista. Michael. Spira inizia. No, io lo prendo un musico per me. Cosa fai di bello? Oh, i colori. Fa tanta roba. Abbiamo deciso all'ultimo, dopo aver giocato a carte e fatto i colori, di andare a fare un po' di fuoristrada. No. Là. Ci passiamo di qua? Oddio. Ma no, senti se slitta. Oh. Hai vomito, Kevin? Oh, è streppina, eh. Ecco. Madonna. La vedo dura. Sarei morta. Sarei morta. Sarei morta. Sarei morta. Oppa sei venuto. Ma ci vuole. Ti dici, Clarice? No, no. Io ho venuto in questo video. Amparato. Però sappiamo che... No, di qua. Troppo stretta. Siamo stortissimi. Senti? Non senti mica le buche. Senti, non senti a venire. Sì, non ce l'abbiamo fatta. Ho avuto paura di morire. Metà viaggio l'ho fatto così. Ma che è? Oh, oh. Allora, lo aiuto. Ma non è vero. Ma so, Mike. Però la vedo. E di penne, quando tagliamo su questi sballottini. Non so neanche che ci piaccia solo queste cose. No, io anche no. Perché tu stasci di bastardo, eh. Uh, che schifo il calazzo. Vamos. Parcheggiato? C'è la foto. Sono anche riserve. No, no, no. Oissa. Oissa. Ok. Ok, dopo questa stancantissima gita sullo sterrato con la Jeep e il Defender. Grazie. Siamo quasi in orario di cena, però a me mancano ancora un po' di passettini, quindi probabilmente forse dopo li vado a fare. Il mio padre è fuori di testa. Il mio papà è fuori di testa. Ci sta. Una paura di niente. Io ho pregato. Qualcuno devo aver preso. Spuntino con uova, 30 grammi di mandorle, 45 grammi di crema di riso, un po' di carne felina arrosto e poi ci vediamo per la conclusione del video. E rieccoci qui come stamattina siamo ancora qui a camminare perché come avete visto oggi ragazzi veramente ho preferito dedicare tempo alla famiglia, dedicare tempo agli affetti piuttosto che concentrarmi sui miei passi. Sapevo che erano irrecuperabili, quindi sì, avrei potuto benissimo non farli, avrei potuto andare direttamente a domani, però sono venuto a finire passi. Se avessi scelto di non fare questi 2000 passi non sarebbe cambiato niente, ma è più una forma mentis da rispettare. Quindi sono sfumature, sono dettagli che però a mio parere fanno la differenza sul lungo periodo. Questi 2000 passi, ripeto, sicuramente non cambiano nulla in termini di risultati, ma cambiano in termini di adesione al piano, rispetto di ciò che ti è stato detto di fare. O di ciò che ti sei posto come obiettivo. Quindi finisco questi passi e colgo l'occasione per chiudere questo primo row vlog del canale. Spero vi sia piaciuto, spero che vi abbia fatto compagnia. Detto ciò, tu che stai guardando, se il video ti è piaciuto, sei stato in buona compagnia e vorresti vederne altri simili, lascia un mi piace. Per te non è un grande sforzo, per me invece significa tanto, tanto, tanto e mi permette di portare sempre contenuti nuovi, sempre più di qualità. E perché no, lascia un bel commento su come hai trovato questo primo episodio di Row Vlogs. Quindi ci salutiamo, come al solito, con un bel... Alla prossima! Ciao! 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 Ciao!